Il presidente Gianni, nell'ambito della discussione sulla variazione di bilancio di previsione 2023-2025, annuncia lo stanziamento di 25 milioni per il sostegno a famiglie e imprese alluvionate. Variazione di bilancio, critiche le opposizioni, solo 7 milioni fin da subito liberati dalla regione per le imprese agricole alluvionate. Palazzo del Pegaso illuminato di rosso e commemorazione per tutte le donne vittime di violenza, le iniziative del Consiglio regionale dopo gli ultimi casi di femminicidio. Gianni, 25 milioni per gli alluvionati. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza le modifiche alla nota di aggiornamento al DEF 2023, la terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e gli interventi normativi collegati. Gli atti, che sono stati integrati con un maxiemendamento presentato dal Presidente della Giunta, Eugenio Gianni, sono passati con il voto favorevole di PD e Italia Viva e il voto contrario delle opposizioni. Sono tre i capitoli principali della variazione che complessivamente ammonta a circa 32 milioni. 10 milioni come quota parte del pagamento della rata di ammortamento del mutuo da 47 milioni e mezzo acceso per ripianare il debito sanitario, 6 milioni e mezzo per implementare il Fondo di riserva regionale, 12 milioni e mezzo da destinare alla cultura. Per quanto riguarda il sostegno alle famiglie e imprese alluvionate, il Presidente della Regione Gianni ha detto che si sta lavorando all'attivazione del Fondo di Solidarietà Europea, che interviene per danni superiori all'1,5% del PIL nazionale, in quanto l'accertamento presunto dei danni da parte dell'IRPET in Toscana è superiore ai 2 miliardi di euro. Il Governatore ha poi aggiunto di aver previsto 25 milioni di euro per il sostegno agli alluvionati. 25 milioni che derivano alcuni dalla rimodulazione di fondi del FES, del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, che si tratta in questo caso di 6 milioni per le imprese, ovvero a fondo perduto, 6 milioni a carico di interessi o oneri su prestiti o mutui. Poi abbiamo una previsione concreta sotto questo aspetto di 7 milioni e 56 che sono specifici per i fondi relativi all'agricoltura, uno per rimediare a quelli che sono dissesti, l'altro che nascono dal Fondo di Solidarietà, che quindi abbiamo spostato in questo pacchetto di misure. Vi è poi 6 milioni che non sono immediatamente nel bilancio, ma che attraverso questi emendamenti al DEFRE noi richiamiamo perché possano essere messi in quello che è un bilancio già in indignere, quello di previsione 2024, che abbiamo portato un indigno in giunta e sono 6 milioni a fondo perduto per i cittadini. Naturalmente sono risorse che noi possiamo spendere per, dopo aver approvato una legge regionale, cui lavoreremo in questo mese, perché noi vogliamo allargare quello che sono questi ristori ai cittadini e alle imprese, non solo a quelle imprese e a quei cittadini che sono stati inseriti nell'ordinanza che mi ha nominato commissario, perché in quel caso io potrei dare ristori solo a chi è stato sgomberato, a chi ha avuto l'abitazione o l'impresa inagibile, a chi ha avuto danni strutturali seri alle proprie mobili, che sia impresa o che sia abitazione. Ecco la necessità di prevedere con legge regionale poi la capacità di spendere quello che ho detto. L'opposizione ribatte solo 7 milioni in campo. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno di Fratelli d'Italia, col quale si impegna la Giunta a chiedere ad Arera la rimodulazione delle tariffe idriche per andare incontro a imprese e cittadini che, per liberare case e aziende dal fango, sono costretti ad un eccessivo consumo di acqua, evitando così che nei prossimi mesi arrivino loro bollette esorbitanti. Ha provato anche un emendamento alla terza variazione presentato da Fratelli d'Italia per la concessione di un contributo straordinario di 150 mila euro per l'anno 2023 a favore delle famiglie con figli minori disabili che non hanno ancora avuto accesso alle risorse già stanziate. Ma la discussione è stata per buona parte incentrata sulle risorse in favore degli alluvionati. Nel maxiemendamento da 25 milioni presentato dal governatore Gianni, ha denunciato l'opposizione, le risorse effettivamente disponibili sono soltanto sette. In maniera seria abbiamo studiato la modalità di farli creare un fondo parallelo a quello nazionale. Abbiamo addirittura presentato emendamenti variabili perché questo fondo può essere fatto da un minimo di un milione di euro a un massimo di 10, quindi da un quinto del fondo nazionale che già esiste al doppio del fondo nazionale che già esiste. Va studiato in base alle possibilità di spesa. A cosa servivano questi soldi? Servivano a ristorare quelle famiglie che hanno perso tutto e che ad oggi non possono essere ristorate perché i 5 milioni stanziati, ricordiamolo e sottolineamolo, dal governo nazionale alla regione toscana fino ad oggi servono come primo ristoro per chi ha l'abitazione inagibile. Quindi se tu hai perso l'automobile, la moto, il garage, la taverna, la pertinenza di casa non sei ristorato. Quindi il nostro fondo andava ad integrare il fondo nazionale per andare a dare un ristoro a chi aveva perso parte della propria abitazione, a chi aveva perso il veicolo con il quale va a lavoro la mattina. Lo abbiamo detto oggi in aula e il presidente Gianni è apparentemente tornato sui suoi passi e ci ha sfidato dicendo, aprendo il suo intervento, dicendo il centro-destra chiede 10 milioni per integrare il fondo nazionale. Io ne ho messi 25. Ha detto una bugia. Ha mentito ai toscani perché nel bilancio che oggi noi andiamo ad approvare non c'è un centesimo, e sfido il presidente Gianni a dimostrare il contrario, non c'è un centesimo a disposizione delle famiglie toscane. Ci sono ad oggi 6-7 milioni di euro accessibili alle imprese agricole che hanno subito danni. Ci siamo riuniti, abbiamo chiesto anche una sospensione nel ritirare i nostri emendamenti essendo felici, perché noi eravamo felici, del fatto che il governatore e la regione toscana avesse trovato 25 milioni di euro a disposizione per famiglie, imprese e comuni alluvionati. Ci siamo riuniti, ci siamo messi a leggere gli emendamenti, abbiamo avuto anche un confronto tecnico e abbiamo scoperto che questi 25 milioni non ci sono, sono un atto collegato al documento economico finanziario regionale, quindi buoni intenti, un atto politico che avremmo potuto fare anche noi come opposizione, che avrebbe potuto presentare anche il Partito Democratico, ma siamo veramente arrabbiati e indignati che si continui a speculare sulla pelle dei cittadini, delle imprese e delle famiglie alluvionate. Cos'è successo? Chi è che ha portato i soldi veri? Il governo. È arrivato il Presidente italiano, ha portato 100 milioni per le imprese a fondo perduto e 200 milioni a tassa agevolato. È arrivato il governo con 5 milioni di euro subito sul tavolo. Fra l'altro ci viene detto che il governo non dà risorse. Il governo non dà risorse perché sta aspettando che, così come è previsto dalla legge, che il governatore della regione mandi il resoconto di quanti sono i danni, se no il governo non può stanziare le risorse. Questo lo devono sapere i cittadini. E che cosa fa il Partito Democratico? Certo, nell'assestamento di bilancio del Consiglio regionale da 700 mila euro per le ricorrenze degli 80 anni della liberazione, nella variazione di bilancio mette i soldi sulla cultura, sui tagli dei nastri, perché magari a qualcuno mi fa piacere pure andare a tagliare quei nastri, e sugli alluvionati non c'è niente. Per noi questa variazione di bilancio è importante anche per dare un primo segnale forte, importante a chi sta soffrendo, alle imprese alluvionate, alle famiglie che hanno perso la propria casa. In questa variazione di bilancio noi decidiamo di destinare 6 milioni di euro a fondo perduto alle famiglie, 6 alle imprese, 7 milioni alle imprese agricole e facciamo accesso, io l'ho chiesto da subito, subito nei primi giorni dell'alluvione, al fondo di solidarietà europeo, per 50 milioni di euro. La stessa richiesta, la stessa osservazione porterò al Comitato delle Regioni della prossima settimana a Bruxelles. Noi abbiamo bisogno dell'Europa, è importante che l'Europa torni ad essere vicina ai cittadini e può farlo anche dando risposte e segnali concreti in poche settimane, in 12 settimane. D'altro canto però facciamo un appello anche al Governo che stanzi subito tutte le risorse che servono. Guardate, i primi dati ci dicono che siamo nell'ordine dei 3-4 miliardi di euro di danni. Noi mettiamo subito le cifre che ho detto, ma non bastano, sono davvero solo risorse per l'emergenza. Come Consiglio regionale metteremo diverse risorse che restano dall'avanzo di amministrazione per sostenere i comuni colpiti. Però dobbiamo fare di più e quindi chiediamo al Governo che faccia velocemente la propria parte, che metta tutte le risorse che servono. E poi l'altro appello che voglio fare è di evitare tutta la discussione rispetto al Commissario per la ricostruzione. Il Presidente Gianni, lo stiamo vedendo in questi giorni, sta gestendo in maniera positiva, molto positiva, la fase emergenziale. E allora al Governo chiedo che il Presidente Gianni sia anche il Commissario per la ricostruzione. Una variazione di bilancio che Tel Aviva ha sostenuto con convinzione, un equilibrio dei conti che è fondamentale, mette in sicurezza i conti del 2023, soprattutto mette in sicurezza i conti della sanità, nella quale bisogna anche migliorare rispetto ai livelli di erogazione dei servizi, mette in sicurezza alcune risorse importanti per quanto riguarda le amministrazioni locali e soprattutto inizia ad investire delle risorse importanti per quei territori che sono stati alluvionati. Quindi una variazione di bilancio importante, un equilibrio dei conti che dimostra ancora una volta che la battaglia d'Italia viva di tenere i conti in equilibrio della Regione Toscana si può fare senza aumentare le tasse. Il 2023 quindi si conclude con un anno che per la terza volta consecutiva porta i conti in equilibrio di bilancio, soprattutto senza chiedere nessun sacrificio a cittadini toscani. Pegaso Rosso contro la violenza sulle donne. Un minuto di rumore del Consiglio regionale per ricordare Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato nei giorni scorsi, e per le altre donne vittime di femminicidio. Al centro dell'aula, sopra la bandiera col Pegaso, un paio di scarpe rosse e ancora il Palazzo del Pegaso illuminato di rosso fino a sabato 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sono le iniziative simboliche attraverso cui il Consiglio regionale della Toscana vuole testimoniare la ferma condanna delle violenze e dei femminicidi, i cui numeri purtroppo continuano a crescere tragicamente. oltre a testimoniare la solidarietà ai familiari delle vittime. Lo ha deciso l'ufficio di presidenza dopo l'uccisione di Giulia Cecchettin, la cui vicenda occupa le cronache da giorni. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, in un suo messaggio, ha detto che l'impegno per prevenire e contrastare i fenomeni di violenza maschile contro le donne deve vederci impegnati tutti, senza alcun distinguo. Di fronte agli oltre 100 femminicidi in Italia nel solo 2023, ha detto Mazzeo, serve un'azione più consapevole, concreta e costante di educazione e prevenzione. Un gesto significativo che vuole tenere accanto a noi Giulia, Giulia e non solo, tutte le donne che subiscono una violenza, le scarpe rosse al centro dell'aula, l'illuminazione del palazzo di colore rosso, sono dei segnali che noi annualmente facciamo nella settimana che ci porta al 25 di novembre. Quest'anno ha un significato particolare, motivo per il quale il Consiglio regionale ha voluto urlare, non stare in silenzio e manifestare la propria contrarietà e manifestare tutta la propria vicinanza a tutte le donne. Per questo siamo stati impegnati nel ricordare accanto a noi e tenere quella sedia accanto a noi come se oggi Giulia fosse presente nel nostro Consiglio regionale. Ho chiesto un minuto di raccoglimento dopo aver letto una delle frasi che è stata letta dalla sorella di Giulia e che parla del patriarcato, perché è una riflessione che ciascuno di noi può e deve fare, perché ci possono essere mille leggi, decreti, si possono inasprire le pene, ma nulla sostituirà una cultura del rispetto della persona che è indispensabile e che senza la quale non ci può essere nessuna legge, nessuna costrizione che possa insegnare alle persone, agli uomini, ma vale per tutti quanti, il rispetto del prossimo. La famiglia sicuramente è un caposaldo su cui oggi, onestamente, quando sento parlare di rimettere in discussione il patriarcato ho qualche dubbio, perché molto spesso quella famiglia arcaica, quella famiglia che rappresentava dei valori, delle tradizioni, che oggi appunto viene liquidato con la nozione di semplice patriarcato, un tempo rappresentava forse un nucleo di valori, un nucleo di principi che forse si sono persi nel tempo e che forse oggi credo dovremmo recuperare, anziché, come dire, andare a trovare un capo ispiratorio, ripeto, non rendendoci conto invece che lo sfaldamento anche della famiglia ha contribuito anche a sfaldare certi valori e centi punti di riferimento. La violenza sulle donne, la violenza domestica è sicuramente un fenomeno ancora troppo largo, anche se abbiamo proposte di legge, obiettivamente il problema è un problema culturale, di informazione, di preparazione, le nuove generazioni femminili, ma direi non solo femminili, io credo che dovremmo ripartire anche da una cultura sul genere maschile, il genere maschile che deve ritrovare un suo ruolo, deve abituarsi a una compagna che è diversa da quella di un tempo, quindi il problema è un problema obiettivamente culturale.